Presidio unitario organizzato da CGL Cisle Will davanti la stazione ferroviaria per rivendicare i diritti propri e del sistema trasporti. Mattinata difficile anche a Rimini per i mezzi pubblici locali a causa dello sciopero degli addetti del settore che ha riguardato ferrovieri e addetti delle linee urbane. Forte la preoccupazione per gli eventuali licenziamenti nel TPL per i tagli alle risorse degli enti locali destinati ai trasporti ma non è mancata anche la protesta per la situazione dei collegamenti sulla dorsale adriatica. Oggi è l'ennesimo sciopero che noi facciamo non per protestare ma per fare sì che venga riconosciuto il diritto di un rinnovo contrattuale che è già scaduto da tre anni. Però non è solo questa la protesta di oggi. La protesta di oggi vuole essere vicino a un'utenza che in qualche modo anche negli ultimi orari ferroviari ci sono stati tagli soprattutto nei treni notte, nei treni lunga media percorrenza. Ci saranno tagli sicuramente al trasporto pubblico locale dove va a riguardare sia i lavoratori pendolari che ci devono spostare per recarsi al lavoro in altre città anche qui della nostra regione, agli studenti. Questa è una preoccupazione che noi abbiamo nel senso che pensiamo che il trasporto deve essere un trasporto pubblico, deve essere garantita la mobilità e quindi oltre che il discorso contrattuale siamo vicini a tutti quegli utenti che in qualche modo favoriscono un trasporto pubblico che è anche dentro un ragionamento di socialità nel senso che parliamo sempre di inquinamento, di città che in qualche modo sono intasate dal traffico e poi la politica, la finanza si taglia praticamente con tagli nileari sul trasporto. Quindi questo non va bene.